Non vuoi fare il video io? Ecco Lavoro quello lassù eh Lavoro quello... Un po' non si può giocare con quelli piccini Mi guarda quello blu eh? Eh Proprio il colore ti piace guarda Ah Addio ora ora la scoglie cosa Non devi dire abbrugno Ovviamente E' un po' di calzoni Non si è annoiata Ma che è una terrenica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.